Sono stati piacevolmente sorpresi poi nell'essere riconosciuti come messaggeri del cuore al Senato della Repubblica. Arezzo Cuore è premiato in Senato per i 10 anni di attività nella diffusione delle manovre di rianimazione ed uso del defibrillatore nelle scuole. È stato un riconoscimento inaspettato che ci ha voluto fare il presidente Segre, presidente di questa associazione Onlus che da tantissimi anni diffonde la cultura della rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo dei defibrillatori in tutta Italia. E noi siamo stati invitati come progetto Arezzo Cuore per la presentazione appunto del nostro progetto dei 10 anni che hanno contraddistinto l'Arezzo Cuore Scuola, quindi l'istituzione degli insegnanti istruttori che formano i ragazzi delle scuole per diventare degli esecutori veri e propri e quindi avere il brevetto da esecutore BLSD e utilizzare quindi il defibrillatore. Grazie al progetto Arezzo Cuore in questi 10 anni sono stati formati 18.343 studenti. Attualmente sono poi 310 i docenti in grado di insegnare le manovre di rianimazione e l'utilizzo del DEA agli studenti, numeri importanti che hanno consentito il salvataggio di decine di persone. Solamente qualche giorno fa proprio ad Arezzo è stato salvato un 17enne che aveva accusato un malore durante una partita di basket e di allenamento al Palasport alle Caselle. La catena di soccorsi in quel caso è stata tempestiva ed è stata stupenda. Mi permetto proprio di usare questo termine perché ha funzionato tutto alla perfezione, tant'è che tra l'altro io ero coinvolto personalmente perché ero di servizio quella notte e ero con l'automedica, quindi sono intervenuto personalmente su questo ragazzo. Noi quando siamo arrivati con l'automedica il ragazzo era già sveglio, questo grazie alle manovre di rianimazione fatte dal personale della palestra sul posto e soprattutto all'utilizzo del defibrillatore che avevano lì a pochi metri che ha permesso a questo ragazzo di essere vivo oggi. E' cambiata tantissimo la mentalità, noi eravamo ancora lì sul posto, stavamo lavorando con il ragazzo e già le persone della palestra, quindi i responsabili della palestra mi chiedevano come potevano fare per riavere il defibrillatore perché altrimenti avrebbero addirittura sospeso tutti gli allenamenti se il defibrillatore non fosse stato ripristinato in tempi brevi. Quindi pensate a quanto nel tempo questa mentalità sia stata cambiata e sia stata fortunatamente cambiata positivamente.